Isola dei Famosi, in nomination Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta, ecco i gruppi migliori e peggiori Isola dei Famosi, ecco chi va in nomination dopo la seconda puntata di lunedì 29 gennaio e quali sono i due gruppi creati dal migliore e dal peggiore che vivranno su due isole distinte Isola dei Famosi 2018, i concorrenti . . Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini il maggiore Cecilia Capriotti il peggior nella seconda puntata, suddivisione in due gruppi La prova del maggior? Ogni naufrago deve raccogliere il maggior numero di cocchi possibili utilizzando solo il cestino e non le mani Ogni frutto ha un punteggio indicato sopra, vince chi ha totalizzato il numero più alto di punti Alessia Mancini è la migliore della settimana mentre la peggiore è Cecilia Capriotti, rimarrà con i compagni scelti sull'isola meno ospitale e non potrà prendere parte alla prova per vincere il fuoco Il meccanismo è a catena Ogni naufrago fa il nome del compagno successivo Con Alessia si ritrovano Bianca, Nadia, Amauriz, Giucas, Gaspere, Franco e Craig Con Cecilia ci sono Francesco, Filippo, Marco, Paola, Rosa, Jonathan e Francesca, scelta per ultima, non la prende bene e accusa i compagni di essere falsi Isola dei famosi 2018, nomination, al televoto Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta Nominatio una segrete per i migliori A Amauriz nomina Filippo Bianca nomina Rosa Bianca nomina Rosa Nadia nomina Rosa Franco nomina Francesca Craig nomina Cecilia Giucas nomina Francesca Giucas nomina Francesca Gaspare nomina Francesca Nominatio un palesi per i peggiori Francesca nomina Francesca Francesca nomina Franco Paola nomina Nadia Filippo nomina Nadia Rosa nomina Nadia Che replica ti ho fatto il clistere Francesca nomina Francesca Francesca nomina Francesca Francesca nomina Francesca 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 nomina 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 Francesca Francesca, più nomination dal gruppo, e Rosa, scelta da Alessia.